Consueto appuntamento quotidiano con il format Care Teste di Cass Vacciniste Vicine e Lontane. Allora, 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 oggi è il 21, l'anno scorso era 21, era un venerdì naturalmente, avevamo 68 persone in terapia intensiva, senza vaccini, con zero vaccini, attualmente ne abbiamo 466, quindi vedete se ne sono aggiunti 11, 11 die che non sono pochi e siamo a 466, da 68 a 466 le proporzioni fatele voi, 466 con i vaccini, 68 senza vaccini, senza le vaccinazioni. Ma sempre nell'agosto 2020, come potete vedere, sempre il 21 agosto, che era un venerdì, avevamo nove morti, nove decessi, nove deceduti, un numero tutto sommato sempre contenuto, sempre limitato e agosto 2021, il 21 che è un sabato e vedete che sono 45 i decessi, 45, quindi da 9 die si passa a 45, die vuol dire al giorno, lo dico per gli amici vaccinisti che fanno un po' fatica a comprendere l'italiano, figuriamoci se parliamo un pochino più forbitamente. facciamo anche le tabelline, 9 per 5 è 45, cari amici vaccinisti, quindi abbiamo quintuplicato, quintuplicato, lo spiego sempre per i vaccinisti, vuol dire moltiplicato per 5 e quindi vedete che vaccinare, come dice il buon pregliasco, serve ad avere questi numeri, ma il buon pregliasco ormai se la cava così, ma se non avessimo vaccinato i numeri sarebbero stati ancora peggiori, e così pensano di cavarsela, ma i numeri inchiodano. Va bene così, avanti con i carri, continuiamo a vaccinare, continuiamo a favorire la diffusione di nuove varianti e a indebolire, specializzando, indebolire il nostro sistema immunitario. Big Pharma deve guadagnare e su questo direi che le cose vanno benone perché Big Pharma ha straguadagnato e continua a straguadagnare. Viva l'Italia, viva la Costituzione, per il resto non so proprio che altro dirvi. Iscrivetevi al mio canale. Alla prossima videopillolina.